E' bello tutti ragazzi, qua siamo in una mappa creativa nascondino con Tricky, Gigo, Zero e Osso Ragazzi, i cercatori sono Doc, Sono Zero, Tricky e Gigo e noi ci dovremo nascondere Moriremo subito Sarà colpa di Gigo Ciao tizie che non conosco Ah, quando si è spallito Non mi è sparato Ciccio Kainer E' un fratello Ok, io sono nascoste ragazzi Brava 32 è un fatto difficile Ragazzi hanno 4 minuti per cercarci Stringi, ritri, 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 ritri Stando a me, una sola metri, che è una sola Non faccio smesso Guarda qua Ma davvero c'è un po' di senso per i tuoi Ma davvero c'è un po' di senso per i tuoi Dai, mi dico, è dentro, fidati, l'ho sentito anche No, vedi? Vieni, guarda Sicuramente qua Ah, ragazzi, ragazzi Ho capito Ma No, raga, uno sta qua Uno sta qua Dai, lo sento Perché non usare il piccone se sta qua? Andate a tre minuti, ragazzi Stanno tutti sclerati Cominciando a sclerare perché non sanno dove stiamo Sono baggiato No, allora uno sta lì, lo so Nel gang E chi è che piccona? È uno con i trighi perché Sì, è lui Si può piccolare No, non ho capito Ma voi siete oggetti C'è l'oggetto Chi si è arrivato Ora, chi lo chiamano Lupin Ho capito Ma io mi sono colpito La vita di Giavoli Lo chiamano Scegliere Ma io mi sono colpito La vita di Giavoli Sarò la nostra L'unico E vi devo Due minuti E quaranta Ragazzi Per trovare Scusate Alla Scusate No, siamo In due Scusate Ma sennò Sennò Come abbiamo Ma saremmo No 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 In mezzo Dove andare Vabbè Si Guarda L'ultima cosa Non valgono gli effetti Sonori dei muti E se ne è troppo Se è troppo easy Sì Infatti Degli effetti Sonori dei muti Di soldi Quello che è Io non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Neanche io ce l'ho Anche Basta fischiare Fra un senso da qua Guarda 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 E prende in giro Non voglio Scommettiamo Ce lo sapevo Ma io lo sapevo Trovando Cos'era Trovata Io dico Era uno specchio Dietro dei cartelloni Ma comunque Se sei un lingotto d'oro Poi veramente Però è troppo difficile Ma sei in tre Ragazzi In tre Ma perché io li seguo Ecco Perché è un'unica La sentra Ma che balli Va Che cosa sono tre Ah Ah Voglio di uno vivere Questa No No State fermi State fermi Sono scarso Dai non ballate Non ho fatto Maggio Ma ballate Ballate Tatto Maccano Un minuto E dieci secondi Eh ragazzi Fa qua Fa qua Ma perché si è resoli In due Scusate Oh Che è quello Che si scatto Il microfono Sento che ha metto Da fischiare No io Un mondo Molto Ma Ma che botta Di tumore No Faccio La stessa cosa Se lo fai Adesso 30 secondi Rega Ma che Che Se con Moria Mi sento Solo Uno Qua Do L'ultimi 20 secondi Cammina Cammino Cammino Cammina Lì No Faccio Tricky Davanti Però Ma sei Fatto Dove Stai Ciò Che Tricky Tricky Ho Iniziato Fino All'ultimo Non ti ho mai Visto Aclare un secchietto Di Arun secchietto Tricky Non ti ho mai Visto Il gatto Avete il gatto Quando è dato Nel bagno Rega Adesso Faccio Uncita Rega Non abbiamo trovato Posti Era un bagno Raffermatemi Delicotti Ma sono Sti Pagli Di colpi Teniamo No Ragazzi Comunque Non fate Lì C'era Un secchio Lui Che C'eri Io Ero Un specchio Dietro Hanno Scato Io Faccio L'infame Io Faccio L'infame Ma Non c'è Non c'è Dico Non c'è Dico Sì Da Questo È un Verbo Con Voi Avete Urlato Ma Cosa Ma Sono Ancora Cambi Non Dove Diventa Lingotto Dove Stai Lingotto Loro No Comunque Non mi sono Neanche Nascosto Ma Guarda 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 Dove Lingotto Loro Dove Lingotto Loro Dai Un Cadillano Ti Sembra Che Io Rimango Qualcosa Che Te L'ha Detto Ma Dai Non Sono Stupido Non Poi Poi Non Sei Che Mi Gisca Paria O Perché Mi Che Le Vado Un Gottador E Gli Spari Un'arcata In Faccia Prendi 50 L' Perché Mi Se Le Vado Bro 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 Ragazzi Chiudiamo Questa Camera Per Bene Baby Io Che Bago Un Bagno Dand Andando Ho Trovato Ma Perché Ragazzi A me No Ragazzi Ma 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 Una Scala L'intelligente Ne C'è Sicuro Io Sento Ma Avrà Regalo No Lo Sai Che Basta Guardare Un Secondo Dici No Questo Non Ci Sta Invece Tutto Ci Stai Un Botto Almeno Credo Perché Posso Spettare Bomber L'altra No Poi Vero Vai Regalo Ma Sono Lingotti Bravo Ragazzo Ma Chi è Che Dice Una Cosa E Poi La Fabra Mi Sotto Vecito Ma Dove Siete Siamo Qua Dentro E Andiamo Di No Qua La Prossima No No Vieni Segui 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 Lo sapevo Non c'è La raga Oltre Uno di voi Ha usato Il piccone Non fai Io Non ho usato Il piccone Quindi Non fate Il lupo Mangia Frutta Ragazzi Ma Non Sopro Hai Visto Trighi Ti Non mi ricordavo Dove Quindi Ho Trovato Una Sedia Mi Ma Chi è Che soffia Il micro Ma Io Che Ne Sopro Ho Bona Il piccone Scusa Raga Ho Giato Ancora I picconi Siete Dei Baroni Ma Barone Cosa Dei Due Dove Stanno 23 10 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 14 14 19 Non si Citta No Non si Fa Così Ma Visto Qua Fuori broma mi vuole dare una mano bro perché la macchina non per me non ci avete detto niente ma il mio amico guarda dove sta prostando qua vieni vieni qua il piccone è totalmente non valido in cui c'è parte che stavano veramente quando dobbiamo spararci e ho trovato di che non mi ha detto niente raga ma te che non è detto niente legato a serio cittadino io 10 secondi con la casa semplicemente perché voglio essere una brava persona in mezzo alle scale bro dove siete finiti come sto io bene bacino bacino tricky bacino ma venire un indotto prove di armonizzato si chiamava ma se sei stato bro non puoi stare in mezzo alle scale con il indotto e città qui voglio bene 3 che non ero nella scala bomba ma mercurino mio prima è stato è stato un indotto loro praticamente era un quadro era un pezzo era che coglione no regalo ma non si dice il sito non è trovato trovato proprio non star chiamo bro no se sei stato questo giocando con bomber lui lui non mi troverete mai è tipo adesso accettando lui ragazzi giugnante non vanno il mio ascolino venga raga membro vieni qua però stanno qua sotto se le passi da me sotto all'acqua no vero però sia bella però non vale qua sotto mai non mi posso cominciare se è stato gentile non ho usato l'indotto per andare qua voi da rega fatti seri non può scartano perché città non mi piace una coperta io sto in una stanza l'ho detto e mattrighi no trighi non vanno altri l'ho dico l'ho dito in una stanza l'ho detto di ma non sono un po ma come raga 3 che non vuole stare sotto l'acqua qua e sono sott'acqua io e poi in acqua non puoi manca abbassarti io non sono in acqua si va regalo stavamo in tre lungo questo trasferitato c'è come giochiamo nel riso nell'angolo nell'angolo delle scale ma come c'è saluto che riesce a succederci mi sa magari ricordate che ci hanno trovato di pittrici o appena l'agio non è stare vicino a me bro ci dobbiamo dividere dico guardando il bro sta mandando a guardare il cavo non manca io vado nella piccola vita bra no ma c'è una zona che nessuno fa però a poca vita io mi dico uno spoiler sto fuori vicino all'aurore verso l'asso no 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 però non è che si aspettano a me di là l'ho visto prima ma io vedo il primo no 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 c'è fatto di nevato dove nell'angolo qua ma no ma no ma con finito no 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 ma raga voi lo sapete che si può anche uscire sto aspettando a lui aspettando a me regami giuro con noi bro dico io non ti vedevo prima stavo pensando che la cosa è quella e anche la dove bro se segui dici tu ho capito che non può aiutare si guarda la barriera bro ma dove dici tu vabbè ma mio compagno tu con la che mi hai visto dove dimmi dove no ma intendo una zona dopo sognata bravo dopo possiamo andare ma che mi segui una zona che loro non sono state qua dentro raga mamma mia quanto vi uccido la raga raga io ho trovato il posto migliore di tutta la vita dico posso farti video chiamate no no ok vai vai guarda io dove sto guarda dove sto vai no no non stiamo citando non è sempre sopra ci sopra le lavatrici sono le viste di accetta la videocamata a tutta la videocamata guarda in alto non stai chiamando ciri sto chiamando a carta lavatrice cattiva lavatrice cattiva che fai qua no dove sta di gola non sia stata più ma non perché dico e l'altro stanno sempre insieme aveva cittadino ha vinto regalo vinto non mi troverete mai tanto ma com'è vero che c'era una lavatrice di un condotto l'aria cosa bomber bomber ma bomber sto facendo la foto così tramando a me non mandata ma se urlate tutti li ho già guarda sta zitti in un video come diciamo che questo c'è il numero nel telefono vabbè io non sto fermo io mi succedo a me la sedia dal bordo non ti trovo bomber ecco di ecco di fai fatto poi trovare un tavolino vero al tavolino vero no no guarda adesso ero 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 vincitato e vabbè di proibili non valgono no si era un glitch broigliss abbiamo detto che non valgo marvel seguimi allora andiamo prima di margine con una bomba una bomba dove dove ero io ma è noi ma non ho visto non ci non si vede diventiamo dei lingotti d'oro seguimi e non mi mettere un ingotto d'oro ragazzi invece loro sponano prima di noi allora mi dispiace o vedi qua dentro da te lo vedi qua tesla a come non venire più non venire più da me raga raga secondo me io ho nel posto dopo vado nello stesso nascondiglio no bro vince non puoi trovarmi bro non può trovarmi ha vinto è bene il posto ero io non ci non so dove sta veri tu fra non la vedo dalla foto non la rivedo non la vedo dove ti giuro vedi via foto non ho visto se vedo scoperto che bella non c'è dire io non ci vado non so neanche dove sto insieme la foto sono totalmente giocato non valgo nicina regalo volta raga non è un città è fatto apporto raga 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 no no lui va nel posto verso dove sono davanti mila foto di cose a quella famiglia di farle noi no 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 non è ovvio no ma tu tu vai tu ci vai noi non possiamo andare quindi come stare no 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 però in questa zona ci possono andare tutti a comunque io ci sono andato da ero partita da sotto proprio la sotto e sono andato qua non vuole andare in un'altra zona non so cosa da dire non vale di andare nei buchi non vuoi andare nei buchi ma no nei buchi dove cacciatori non possono venire ok ma non è un buchi ma perché mi prendi come un idiota non vuole io sto saltando tutto il tempo faccio le provocazioni non mi troverete mai io ancora mi asconosco marvel se vedi poi c'è marvel perché marvel non c'è ma scusa mi confondo perché dico ma io confondi troppo comune bomber comunque se guardi me dove sono e guardi la barriera io in realtà sono ancora in lama commento che non ci andrete ma secondo guarda se mi avvicinare la facciamo l'ultima regola l'ultima regola lega bomba per forza del sua ragazza e senti arrivano a fare questo qua fuori da casa rimane dei rumori da un buco ma per quindi devo stare dentro ascoltatemi ascoltatemi non vuole andare in inglese facciamo che non vuole andare fuori la mappa ok ci state ma grazie sono fuori la casa scusate fuori la casa aspetta no aspetta aspetta questo vuole una parte dello scuolo non vuole non vuole tutto a parte non non glice e non fuori da casa ecco ma per caso in questo senso buoni no ma la piscina è della casa no no dentro dentro la casa bomber però come il tuo amico però c'è sì ma grazie ora come minacca allora allora tutti vanno nella piscina e vinti lo dico qua sopra ma non sono entrato dentro la vicina robicini sono entrato nella piscina ma non sono entrato io sto dentro casa grazie tibro hai ne condotti questo allora sì così mi potete vedere mi potete ancora sparare io so entra ma vabbè ma cos'è tutto ma bomber grazie di lo c'è fai questa regola dove io non so dove stai tu a modo stato si sta muovendo regata fra di voi lo so lo so perché mi devi dire che ti vede nascondino perfetto e tu dici no non si può più andare la e c'è io dove devo andare mi ha studiato tutto adesso doveva devi saper forza dentro la casa d'accordo non l'avevi detto prima l'hai detto solo quando ci sono andato grazie è stato bene per ogni secondo me stanno succomando ma io sì io ora faccio solo e adesso perché io stavo allora io le capi dico mi dico adesso cosa si era un lingotto mi sono nascosto mi sono rinforzato formato e quindi non sono io non sono io non sono nascosto ma e rigore rigotti valgono però e non ci avevo niente non è possibile apprezzarlo rega vale tutto appare il sito di domanda vale tutto a parte non fuori non fuori la casa deve stare per forza dentro e non cito ecco poi fare il lingotto vale fai quindi il lotto vala si vale non città però e non fuori da casa non si può andare nei buchi dove non è un sito perché se guardi la barriera capisci la vedrà poterà meglio dentro la casa è troppo impossibile è più cosa possibile minchia ora distruggono di chi lo dai ciao nei condotti vale gesto no ma ok ma tutta la mappa portami da lui portami da 20 secondi vai uno due tre quattro da lui vai vai portami da lui il figlio portali da dove ho detto vai vai per il posto di da la vita fermo 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 come fatto non mi saremmo bello ma non c'è da un lingotto ragazzi legata me hai tu e che cattiveria da me regata america acqua è sceso grazie che compagni ma c'è una persona si squadra con una persona bella di chi conmuta di vigo compagni di orma va rega 3 che marron secchio bellissimo 3 di mamma mia faccia dire ma marvel su dove sei ancora questo marvel che è stato citato io volevo sparare su un muro però volevo sparare su un muro il tuo amico si è suicidato bro volevo sparare sul muro della casa io ho capito che se tu prendi un armi ma in mano non avrima la terza ora lui o tre che bello che fai potrei che la pentina di l'idea bel clown e di background te che si si proprio lato si per il clown tv vai vai però non c'è da più e con l'asta io non ho ancora capito le le skin di chi non è questo bomberena o di chi bella pianta sparaci drighi vai vai che bel colpo l'avevo preso continua a sparare tutte le piante donna ma chi con le parole stiamo facendo amico sta fuori la casa rega no provvedì ma lo scherzato vivo sta dentro la casa scusa scusate os ma stai fuori la casa os no 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 ok ok ma marvel sta facendo ma comunque bombere marmello di provini no proprio dove cazzo andati è andato giù ma perché c'è di un prodotto l'oro come avete tra gli aridato come degli schifo vieni qua dalle piantine degli vieni qua non la c'è stata solo guarda ti fischia pure pensa ti sto coprendoci ma vi siamo tutti li stiamo tutti ma che fa la piscina trighi viene solo a farti un mal bagno con noi degli altri che lo vedo sempre siamo quasi tutti i tre vicini legato c'è il ping enorme che si chiara e 3 che non vedrete questa di cosa andare a vedere dove famiglia di essere nella piscina della scuola ti non valgono raga se venite a me ti porto da chi che mi lasci vita la vita vita ma vi ok va bene ok vieni sopra dei versari vengono io dalla bro scatola una delle due forse guarda salgo già sai se mi guarda qua qua dietro e dietro e dietro e guarda dove sta questo caso la vita tra di quattro di qua scusa di qua è stata stati dal muro viene ma vengo dove stava come vuoi andare la spiegamelo fra io non ti vedo bombe dico ma me stai come fai stare già là come facciamo a giro toni ma stai qua dietro che fai bomber lo so che hanno il giro a ogni giro da nascondito sarà qua da bro non vale non vale chico o misteri come fa tentare no ti dico ti dico blocco gli altri ti dico come fai ok ok non mi piacciono gli snitch bomber allora la nostra storia è mai tutto l'acqua a poi vai sopra e c'è un angolo di andare sotto l'acqua no basta stiamo parlando leggi dico ti ha scoperto che un guarda questa città ma di così direttivo dico città schifo mi guardando non sono giocato dentro casa ma potete andare sotto la mappa ragazzi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like e sfida del canale passate anche da twitch da da trighi open for the emoi as Grazie a tutti.